Con l'arrivo della 1.17 ci siamo messi a lavorare con un mod texture command block pur di ricreare la 1.17 prima della sua uscita ufficiale E oggi dopo aver fatto tantissimi video su queste cose le ho messe tutte insieme per ricreare la 1.17 Ma per arrivare la notte perché ci ho messo 40 minuti a fare la intro bene Troviamo all'interno di un modpack che ho fatto io e va a ricreare completamente la 1.17 Però non è solo modpack ci sono molte texture data pack c'è di tutto e di più Infatti qui iniziamo a vedere subito un nuovo mob ossia la moobloom Mi allontano troppo si buggane e si allunga la testa quindi meglio non allontanarsi troppo Troppano questi fiori dandeleon che servono per trasformare altre mucche normale in mucche moobloom Dovrebbe essere così tenga esattamente così trasformiamo le altre mucche Quindi il primo mob di minecraft lo abbiamo già aggiunto Il secondo mob di minecraft dobbiamo trovare o dell'acqua o delle montagne Quindi vediamo di trovarle mi metto a camminare magari mi givo qualche cosa nell'inventario E ci vediamo fra poco non lo so Mentre stavo cercando le montagne mi sono ritrovato un bel fiume E qui si può vedere un nuovo mob di quelli che ovviamente verranno aggiunti Il nuovo mob in questione è quello che verrà effettivamente aggiunto nella 1.17 Quello che ha vinto il mob vote Se ve lo siete persi ho una playlist sul canale chiamata 1.17 dove potete trovare tutto Ecco qui il glow squid molto simile agli altri squid devo dire che però una texture migliore Saranno degli squid normalissimi che si illuminano Penso dropperanno qualcosa non lo so forse Forse gli shard per creare le sea lantern o qualcosa del genere Comunque sono molto intelligenti devo dire perché stanno morendo tutti Detto questo entriamo in questa foresta E andiamo a cercare invece la montagna per il terzo mob della 1.17 Anche che però questa foresta è molto bella Cioè guarda è pieno di zucca Cos'è un albero di zucca? Inizio a intravedere una montagna però Che sia quella dove spawna il nuovo mob Vediamo Sembra molto alta Vediamo magari spawna qui eh Allora siamo sopra le montagne ma non sembrano abbastanza alte O forse abbastanza innevate Qui non c'è niente Andare in un bioma freddo non lo so La prossima tappa sono queste gigantesche montagne innevate Dove ci sono eccolo lì l'ultimo mob del trio Ossia l'Eisloger Il villager di ghiaccio che ti attacca Salve Che non fai niente Mio dio ma che stavi laggando ma che è successo Comunque il nuovo villager di ghiaccio che spawnerà sulle montagne Qui ci sono le sue nuvole di neve che continuano ad attaccarmi cavolo vada via Lì c'è uno strano tizio Salve Cosa ci fa lei qui? Qui c'è un igloo forse posso ripararmi Ma che qui sotto c'è ancora Eh c'è ancora lo scantinato Vediamo a vedere che c'è C'è ancora il villager Guarda sai che ti dico io libero il villager E' notte quindi direi che possiamo Ma basta ma andate via E' un altro posso dormire? Grazie mille Adesso col giorno andiamo a cercare un'altra cosa Vi ho mostrato i nuovi tre mob di minecraft 1.17 O meglio i tre del mob vote di cui uno verrà aggiunto Ma ovviamente oggi non ci limiteremo solamente a quello Infatti qui parliamo di 1.17 non dei nuovi tre mob Quindi in questa gigantesca montagna c'è un canyon In cui indovinate Esattamente Comunque sì Per chi lo volesse sapere Questo qui è il copper Un minerale che nelle mod di minecraft c'è da anni Ma che è stato aggiunto da poco Nel cave and clips update Ve lo siete chiedendo? Sì ci sono le nuove caverne già Ci sono i cristalli Ci sono le stalattite e le stalagmiti C'è già tutto E adesso le andremo a vedere Abbiamo già trovato il nuovo minerale Che non sembra troppo raro da questa Minecraft Potrai fare 400 aggiornamenti Ma i bug ce li hai sempre Guarda ma che è Comunque stavo dicendo che da questa mod Non sembra tanto raro questo copper Comunque meglio così So che alla fine non servirà per fare armature o cose del genere Ma servirà per creare il blocco Il parafulmine E varie robe ovviamente Ma visto che in questo mod pack Le caverne sono aggiornate alla 1.17 Direi di entrare dentro No? Qui c'è dell'altro copper Sì sembra molto comune come materiale Se non sbaglio possono spawnare i nuovi biomi delle caverne Quindi adesso mi metto un minimo a girare Ci rivediamo magari se trovo qualcosa E oddio ma che ci fanno tutti sti mob qui Vada via E lì c'è del diamante Guarda che bello Comunque sì se notate le caverne sono leggermente di vero Cos'è questo? Ah il copper è già cotto Va bene grazie Minecraft Ma non penso sarà proprio così nel gioco finito Ah vero poi dobbiamo creare la versione con meno pixel del nuovo copper Aggiornare anche la test tour pack Che bello come se non avessi già tanto lavoro da fare Aspetta un attimo Il blocco io lo conosco E la caverna del warden Il mob cieco di Minecraft Che ogni volta sbaglio dico sordo Ma è cieco Quello che se sento un minimo rumore vi attacca subito Vedete questo mod perché è veramente molto molto completo E non lo so magari potrei fare un video anche dove vi dico tutte le mod E magari ve lo scaricate Non lo so potremo vedere Comunque qui dentro sembra che ci sia la nuova caverna Adesso vediamo Mi sa che ho trovato l'entrata Anche vedete come è fatta bene la caverna A me piace tantissimo Guarda che bello Sono le varie torce Ci sono i nuovi blocchi E completamente la nuova caverna del nuovo mob Che è leggermente paccato Perché c'è un altro bioma Che si chiama delle stalattite e delle stalagmiti Per il momento Questi così Ed ecco qui il nuovo mob Il mob gecko di Minecraft Che è il warden Che se facciamo un minimo di rumore ci attacca Non ho nemmeno l'arco Quindi se lo colpisco mi ammazza Proviamo non lo so Ho il totem del non morto Dai Aia però mi sta facendo male Mangia la mela d'oro Mela d'oro No 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 Ho il totem del non morto Si è fermato Gli è venuto un attacco di ritardo mentale Che è successo Ah si è bloccato Che cretino Si è bloccato nel blocco Perfetto E un altro mob è stato fatto fuori Oddio la zona dove il player Mi riparava Qui ci sono delle sabbie mobili Che cavolo E sono effettivamente delle sabbie mobili Che create col fango si chiama Sì esatto è fango Qui dentro ci sono dei drop No devo dire molto bene fatta questa mod Per essere una mod creata sul nulla Su qualche video visto durante l'update Devo dire che è fatta molto bene Quindi questa qui è la caverna del nuovo mob warden E qui come potete vedere Abbiamo un'altra nuova caverna Ossia la caverna Le stalattite e delle stalagmiti Queste cose ti cadono addosso e ti uccidono Invece se ci sali sopra Stalagmiti Praticamente vi fanno un botto di danno Sono delle specie di magma block Mamma mia Però i creeper ci saranno sempre No aspetta qui c'è un'altra caverna del warden Mezza distrutta perché è spawnata male No c'è un altro Sì ce n'è un altro No l'ultima volta ci stavo per morire se non si baggava Quindi voglio andare via E lì c'è un'altra caverna delle stalattite e delle stalagmiti Qui c'è un'altra E oddio in mezzo alla lava fa Quel po' di impressione Ti immagini fai un parkour Sbatti contro questo e cadi nella Lava Ok belle le nuove caverne Però ne manca una La devo trovare che cavolo Manco sia Beh per il momento non ve lo dico Appena la vediamo Eccola lì aspetta E qui 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 Manco ovviamente la caverna dei cristalli Che ovviamente è spawnata in mezzo alla lava Mi sembra ovvio cioè Ma non spawnare dentro la lava Insomma è un altro bioma delle caverne Qui spawnano questi cristalli Cristalli che serviranno per craftare il telescopio Ossia l'optifine in minecraft Un telescopio è una specie di binocolo Io l'ho sempre detto E comunque è bello Vediamo se posso prendere il blocco di cristallo Mi sa di no vero Volevo prenderlo ma mi sa Perché c'è l'animazione del fuoco bloccato Comunque come potete vedere questo mod Perché è molto completo e molto bello Le caverne sono fatte bene Hanno una nuova generazione Guarda lì per esempio lì c'è una pianta che sbuca Infatti guarda per esempio questo bioma Tutto con i laghi Di certo non è vanilla C'è un'altra roba Qui ci sono degli altri cristalli Vedi le caverne sono state fatte per bene Oh bene Ecco qui i nuovi cristalli Posso? Che droppi? Il cristallo che è ametista Perfetto Cristalli che fanno luce Chissà se faranno luce anche nella 1.17 vera Comunque quello che volevo dire È che quello che ho fatto È molto molto completo L'unione di mod Data pack Tetsure pack E tutto Per ricreare perfettamente la 1.17 Abbiamo i cristalli Lì abbiamo il bioma dei cristalli Lì sotto c'è il bioma delle salagmiti Abbiamo il copper Il nuovo minerale Abbiamo visto la caverna del warden Guarda qui c'è dell'altra roba Che sei tu? Le caverne sono generate in un modo molto particolare Devo dire che secondo me È venuta proprio una bella cosa Per non avere la 1.17 La 1.16 A qui Passa un mondo Secondo me ho fatto proprio un bel lavoro Invece che ne pensate? Secondo me è venuto bene? È venuto male? Ti vedono qui sotto Lì c'è un'altra caverna del warden Queste caverne sono molto grandi E sono diverse da quelle di minecraft default Che poi siano leggermente buggate Perché spawnano sopra la lava delle punte volanti È un'altra cosa Per esempio qui c'è un'altra caverna del warden Da qui che bella È fatta molto bene devo dire Comunque io continuo a giocare E per il resto nulla Fini Fini Grazie a tutti.